Quest'anno abbiamo pensato di dare un attimo di vacanza a tutti questi amici, però c'è stato qualcuno che non è voluto andare in vacanza e di fare un libro, di fare un Christmas table book, perché ho pensato di fare una ricerca di tutti questi anni. Ogni albero che abbiamo scelto, io e il mio team è stata un'emozione e sono stati dei ricordi, sono stati dei ricordi perché abbiamo tante storie alle spalle, tanto passato. È stato faticoso ma ci siamo anche divertiti ed è stato bello ricordare.